C'è chi gioca d'anticipo e non attende la dichiarazione ufficiale dello Stato di Emergenza o l'ordinanza della Regione Marche, che verrà emessa nei prossimi giorni, in coordinamento con le prefetture. In alcuni comuni, infatti, scattano già le prime disposizioni per il risparmio idrico, che rimarranno in vigore fino al prossimo 30 settembre. Il Sindaco Palmiro Cchielli ha firmato un provvedimento per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile ai suoi usi primari, alimentari o igienico-sanitari. Stessa ordinanza anche a Fano e a Pesaro, a delencare i divieti. L'assessore alla sostenibilità è i dimorotti. Come annaffiare orti, lavare o sciacquare o bagnare cortili, strade, lavare auto, riempire piscine, insomma tutto quello che non è un uso domestico dell'acqua potabile. Pertanto chiediamo anche la collaborazione della cittadinanza perché è molto importante in questo momento, visto che non piove effettivamente da moltissimi mesi e la siccità si comincia a far sentire. Per i trasgressori, inoltre, sono previste sanzioni tra i 25 e i 500 euro. Se dovessero esserci delle segnalazioni o la polizia locale durante le loro normali attività di controllo dovessero vedere qualche atteggiamento contrario alla ordinanza, sicuramente entreranno in azione e applicheranno le sanzioni previste. La responsabilità e le buone pratiche del singolo, ha proseguito l'assessore, se condivise fanno la moltitudine e quindi la differenza anche in termini di buon esempio e di passaparola virtuoso di scelte sostenibili. Morotti poi ha invitato i pesaresi ad adottare alcune azioni quotidiane. Si chiede alla cittadinanza di essere il più possibile collaborativi, possibilmente di mettere dei frangigetto nei rubinetti di casa, nelle docce che comportano un risparmio idrico del 50%, di cercare di utilizzare l'acqua casalinga dove possibile per annaffiare le piante, di chiudere i rubinetti mentre ci si lava i denti, si fa lo shampoo. Insomma, cerchiamo di avere tutti quegli atteggiamenti e quegli accorgimenti possibili per cercare di risparmiare un po' di acqua e di venirci tutti incontro.